Il ruolo di Avanad è stato fondamentale per gli ultimi due anni di attività di IBS. Se dovessi cercare di sintetizzare come Avanad ci ha aiutato direi in tre modi principalmente. Primo, Avanad ha fatto parte del founding team IT per lo sviluppo della nuova piattaforma IBS in cloud responsive che abbiamo realizzato e che abbiamo portato live a ottobre del 2016. In quel periodo Avanad ci ha aiutato attraverso il supporto di developer e di architect che ci hanno aiutato a costruire un'architettura in cloud che oggi rappresenta lo stato dell'arte per il mondo e-commerce in Italia e probabilmente anche in Europa. Il secondo modo in cui ci ha aiutato tantissimo Avanad è attraverso i suoi esperti verticali. Avanad dispone di tutta una serie di SME, di esperti che ti aiutano non solo nella fase implementativa ma soprattutto nella fase di thinking delle attività che rappresentano poi la pipeline di sviluppo dei progetti IT di IBS. E poi un terzo modo in cui Avanad ci sta sopportando è attraverso le nuove idee, la generazione di nuove idee. Il fatto che io oggi in questo momento sia all'Innovation Summit ne è un esempio. Altri modi con cui ci ha aiutato è stato il presentarci alcune realtà all'interno dell'ecosistema Italia e mondo di innovazione con cui abbiamo fatto dei test pilota, alcuni anche fortunatamente gratuiti, con cui stiamo facendo dei test per nuove iniziative all'interno della piattaforma di IBS.